Quella che noi oggi consideriamo una difficoltà economica che si cala anche nel mercato vitivinicolo, in realtà pensiamo possa essere un cambiamento negli approcci e nel consumo dei prodotti alimentari, nel loro utilizzo. Cambiano i luoghi di utilizzo dei prodotti, è innegabile che il vino è scomparso in tanti momenti della giornata, per cui chi ha un lavoro, normalmente nella pausa non beve vino, non gli viene nemmeno in mente di berlo. Il vino ha acquistato di contro un aspetto relazionale, sociale, che probabilmente prima non aveva con questa forza, ma aveva per altri elementi. Quello che noi stiamo facendo un po' dappertutto è cercare di avere grande rispetto del cliente. Il cliente in questo caso non è solo il consumatore, ma anche il cliente fornitore. Per fare questo costruiamo delle offerte che stanno passando da una fase di offerta molto vasta, molto ampia, 7-800 referenze, è un'offerta più selezionata, più rispettosa del valore dei prodotti, del valore reale dei prodotti, e che possa coprire quelle che sono le tendenze anche di consumo. Il Sud Italia sta non bene come tutto il resto del vino italiano. Probabilmente rispetto agli altri vini italiani sta un po' meglio. Sta un po' meglio perché gli interlocutori, gli attori della filiera, sono mediamente più professionalizzati, hanno meno sulle spalle il retaggio di un passato glorioso che oggi in qualche modo si presenta meno brillante, quindi senza preconcetti e senza schematismi riescono ad affrontare le sfide del futuro e comunque hanno talmente tanta carica e tanta grinta da riuscire probabilmente a superare questa fase di impasse. Bene non sta nessun vino, Sud Italia non credo che faccia abbia differenze. Forse sta un po' peggio di altre zone nella fascia alta dei prezzi. Forse in questo la Sicilia si è spinta un po' in alto e sta soffrendo di più di altre zone. Il vino Sud Italia complessivamente non sta malissimo. È chiaro che le preoccupazioni ci sono perché comunque nell'arco degli ultimi anni le economie e i consumi bene o male stanno rallentando. Quindi il vino Sud Italia risente di questa crisi, però ha ancora delle grandi carte da giocare e quindi può in un futuro ripartire e cogliere le opportunità che sicuramente esistono ancora sul mercato non solamente italiano ma anche quello internazionale. Purtroppo negli ultimi anni sono state immesse quantità enormi di vino siciliano che non sempre rispondevano a criteri qualitativi ben precisi e che invece il consumatore ultimamente va a ricercare. Tra le strategie durante il forum si parlava dell'abbassamento dei prezzi. Le che ne pensi? Io non sono assolutamente d'accordo con una strategia di questo tipo per risollevare le problematiche che oggi il vino confezionato magari sta attraversando. Io penso che un'azienda, se è un'azienda seria, nel momento in cui si approccia al mercato del vino confezionato deve studiare la giusta posizione del suo prodotto rispetto alla qualità che produce e rispetto al consumatore che vuole raggiungere. Ma non è pensabile che da un anno all'altro si possano far registrare delle notevoli oscillazioni di prezzi perché questo metterà certamente in evidenza poca serietà e poca lungimiranza nelle strategie commerciali.